Ciao ragazzi, oggi vi mostro con questo video come arrivare dallo spazio di proiezione al piano di proiezione ovvero come trasformare qualcosa di tridimensionale in quello che sarà poi il foglio da disegno su cui noi andremo a disegnare vi ricordo il piano orizzontale, il piano verticale, il piano laterale, l'asse delle x, l'asse delle y, l'asse delle z ora, come, tra l'altro sto utilizzando proprio SketchUp for School che è l'applicazione che voi avete anche sulla G Suite seleziono il piano laterale, seleziono lo strumento ruota, il goniometro parallelo al piano orizzontale clicco, questo è il primo asse e ruoto stessa cosa per il piano orizzontale potete notare che adesso il piano verticale e il piano laterale sono complanari seleziono il piano orizzontale lo strumento ruota con i tasti direzione blocco il goniometro in modo tale che sia perpendicolare a PO primo clic, secondo clic ecco qui vediamo come i tre piani che prima formavano angoli di 90 gradi, quindi erano angoli retti adesso sono tutti complanari andiamo a verificare questa che vedete sarà la rappresentazione che voi avrete sul foglio il piano orizzontale, il piano verticale e il piano laterale qui, come vedete, non c'è nulla perché sarà un quadrante ausiliario che utilizzeremo, poi vi spiegherò per cosa quindi le tre proiezioni dell'oggetto che noi andremo a fare saranno una su PO, una su PV e una su PL ovvero quella perpendicolare a PO, quella perpendicolare a PV e quella perpendicolare a PL ovvero quella perpendicolare a P.C.